La Valpusteria è il suo capoluogo. Brunico diventerà esempio per l'intera provincia di Bolzano in tema dei nuovi centri mobilità. Tra i 14 e 15 milioni di euro, questo è l'impegno di spesa per un progetto che vedrà come punto di riferimento l'attuale stazione ferroviaria. Rivoluzionare il concetto di trasporto pubblico per offrire, su scala provinciale, un sempre più elevato livello di qualità nei servizi rivolti all'utenza. Questo nuovo centro di mobilità qui a Brunico si inserirà in un concetto molto più ampio che è quello di migliorare sempre la raggiungibilità del nostro territorio con i collegamenti che vanno verso gli altri stati europei, verso il nord ma anche la Svizzera, collegamenti ferroviari anche verso il belonese ma anche lo sviluppo della rete ferroviaria interna, regionale con la variante della Valriga e tante altre cose, l'elettrificazione della linea venostana, la cadenza di mezz'ora per ogni servizio pubblico di trasporto ma soprattutto anche il sistema sui Tirol Pass, accessibilità e anche un servizio molto economico a servizio del cittadino. Sono tre gli ambiti di intervento del progetto del centro mobilità di Brunico nato dalla collaborazione tra Provincia di Bolzano, STA, Trasporto Pubblico Alto Adige, Comune di Brunico e RFI, tre pilastri sui quali costruire il futuro del trasporto pubblico. Praticamente noi andiamo a realizzare nei prossimi tre anni tre lotti di costruzione. Nel 2017 è previsto la ristrutturazione dell'edificio esistente nella stazione di Brunico, sarà completamente rinnovata, anche modernizzata secondo le esigenze di nostri tempi, con un costo pari a 5,5 milioni. Il secondo lotto è quello del proprio centro di mobilità, dove ci saranno le fermate per i pullman, dove ci saranno proprio l'interconnessione tra treno e bus, dove andremo a fare dei parcheggi per le macchine private e c'è anche le fermate del city bus. Tutto questo lavoro ha un prezzo pari a 4,4 milioni di euro e lo andiamo a realizzare nel 2018. Il terzo e ultimo lotto, quello per la mobilità generale della città di Brunico, è la connessione con la via, con la strada che porta a Falzens, con una rotatoria e un ponte sopra Rienza e la Har e quindi anche lo spostamento della strada sul piazzale del mercato di Stigona. Questo è un'opera con più di 3 milioni di euro da completare nel 2019. Il centro mobilità di Brunico pone l'attenzione su un altro importante concetto. Il treno e il bus non saranno più offerte concorrenti rivolte all'utenza, ma diventeranno sempre più complementari. Questo è proprio il punto, ovvero la nostra strategia anche per il futuro, ovvero cercare di fare della mobilità, un'occasione per vedere dove è meglio che continuiamo ad utilizzare il treno, ovvero rimanere migliorando, modernizzando le strutture su strada. Ritengo questo un compito fondamentale per noi e che riusciremo anche ad affrontare innanzitutto con risvolti positivi per tutti i nostri utenti che appunto utilizzano sia il bus che anche il treno. L'amministrazione cittadina ha creduto fin dall'inizio nel progetto del centro mobilità, un ulteriore fiore all'occhiello per Brunico e per l'intera vallata. Spero che questo è un punto di partenza anche per gli altri centri di mobilità che sono già in fase di ideazione, in fase di concetto, ma anche in fase di progettazione, sia per quanto riguarda Bolzano, sia per quanto riguarda Bressanone, ma anche San Candido. Lì Brunico può essere anche un esempio. Nel corso della presentazione del centro mobilità è stato ricordato che il progetto comporta un notevole impegno economico, ma ampiamente ripagato dai risultati dal punto di vista della qualità di vita, del rispetto dell'ambiente e del livello dei servizi resi.